Andate a vedere, la maggior parte degli hotel in Italia ancora si chiamano con nomi di città o nomi di persone, vero o no? Questo una volta andava bene, perché era meno importante. Oggi che un cliente ha 30 secondi per vedere un elenco di 30 alberghi su booking.com, quando sfoglia, anche il nome ha una sua importanza. E poi vedremo dopo in che senso, cosa deve fare il nome, cosa deve aiutarci a fare. C'è qualcuno più consapevole che invece attua una serie di cose giuste, ma nella maggior parte dei casi l'attrazione dei clienti è passiva. Mi metto su booking.com, apro la disponibilità, chi arriva arriva, che va bene, all'inizio serve anche quello, però non se è l'unica cosa.